Io do il benvenuto a Marco Girardo, caporedattore Economia Avvenire. Marco, benvenuto qui alle fonti. Naturalmente un primo commento per quanto riguarda questa terza votazione. Anzitutto buongiorno, grazie dell'invito, bentrovati. Commento a caldo mentre vediamo scorrere la lista con questi 126 voti. Al momento a Mattarella 115 a Crosetto, soprattutto su questo secondo dato possiamo ipotizzare che sia l'ennesimo tentativo di mandare avanti e fare un tentativo, in questo caso da parte del centro-destra, di verificare la possibilità con un altro nome, che non è quello di Crosetto naturalmente, di tentare di giocare fino all'ultimo la carta che sta tenendo in serbo neanche tanto velatamente Matteo Salvini, ovvero quello dell'attuale Presidente del Senato Casellati. Quindi questo potrebbe essere interpretato come un tentativo di misurare il possibile grado di convergenza verso questo nome. bisognerà vedere perché il centro-sinistra da parte sua ha già fatto intendere che su quel nome non ci sarebbe una convergenza, però testando con questa prova a cui stiamo assistendo adesso è un tentativo di forzare un po' la mano. Credo che al momento questa sia l'impressione di questo esito che stiamo commentando in diretta. Ecco, ma secondo te se ce ne fosse insomma la necessità, se appunto ci fosse la possibilità di confermare il tandem, cioè Mattarella-Draghi, secondo te Mattarella nonostante abbia più volte ribadito la sua indisponibilità per un secondo mandato, accetterebbe? È difficilissimo da dire, sono rimasto anch'io abbastanza colpito come tutti da quell'immagine evocativa del suo portavoce Giovanni Grasso che ha fatto vedere gli scatoloni vuoti che si stavano preparando come simbolicamente a lasciare intendere che lì si sbaracca, insomma se ne va, il profilo istituzionale ma anche il senso delle istituzioni, il messaggio che con il suo non accettare una forzatura per una prosecuzione del mandato da parte appunto di Mattarella ha un valore anche di messaggio istituzionale oltre che personale della sua storia personale, per cui credo che difficilmente ci sarà la possibilità che lui accettasse nonostante si arrivi a una situazione in cui non si riesce a trovare, almeno in questi giorni, la cosiddetta quadra per usare un termine sindacalese della situazione. Tuttavia penso che sarebbe nel desiderio di molti di avere una prosecuzione dell'attuale situazione, anche di molti fra i partiti, perché se noi proviamo a ragionare o a metterci nell'ottica di chi sta votando il Presidente della Repubblica, cioè i nostri parlamentari, i nostri rappresentanti di questa composita e eterogenea maggioranza che ci sta sorreggendo e immaginiamo che nei prossimi due anni, quelli che poi ci porteranno eventualmente la scadenza naturale della legislatura ai due anni della spesa e dell'arrivo delle risorse europee, io immagino che molti parlamentari facciano anche il conto con la disponibilità che quelle risorse europee daranno anche nel loro esercizio del potere, nella loro possibilità di agire sui gruppi di interesse. Quindi questo ragionamento di mantenere lo status quo passa per la testa, credo, a molte delle persone che sono lì e che stanno sfilando per la votazione. Ecco, ma nonostante l'invito da parte di molti, soprattutto da parte della sinistra, di cercare un dialogo, un confronto di trovare appunto un nome comune, ieri Letta addirittura ha detto chiudiamoci in conclave e finché non esce un nome condiviso non usciamo dalla stanza. Ecco, nonostante questo invito, secondo te invece l'elezione del Presidente della Repubblica potrebbe diventare il terreno di uno scontro politico e portare addirittura ad una crisi governativa, cosa che insomma non sarebbe poi tanto ben vista dai mercati stessi? Beh, ha detto che credo che lo dimostrano anche le ultime esperienze, le elezioni del Presidente della Repubblica hanno sempre un alto valore politico, oltre che un valore istituzionale. Ricordiamo che l'elezione di Mattarella portò allo sfaldamento dell'allora famoso patto che era stato fatto con Berlusconi, quindi un patto trasversale che cercava di riunire in qualche modo il centrodestra e il centrosinistra dell'epoca e quell'esperienza finì e ebbe conseguenze molto forti anche sul nostro sistema elettorale perché si ripassò dopo quasi 15 anni di maggioritario un sistema proporzionale a livello centrale lasciando una quota di maggioritario molto forte per le elezioni amministrative locali, quindi ha un impatto sicuramente forte ogni elezione del Presidente della Repubblica anche sull'assetto politico, istituzionale e via dicendo. Ci ho detto, è chiaro che ci stiamo infilando in una situazione molto complessa, molto complicata, in cui gli esiti sono difficilmente prevedibili. Io, ripeto, credo che ci sia da una parte una volontà non sempre collegata all'interesse generale del Paese, ahimè, dei parlamentari di mantenere l'attuale legislatura con l'assetto attuale di governo perché consente di avere un controllo, ripeto, sulle grandi risorse che arriveranno dall'Europa, su questi 200 miliardi in più che nessuno si aspettava arrivassero fino a due anni fa ma che adesso ci sono. E dall'altro lato è anche una prova di forza appunto per vedere se questa maggioranza può reggere con questo tipo di equilibri, altrimenti ci perderebbero un po' tutti. Ecco, ma in una situazione ancora così complessa, come giustamente sottolineato, tra appunto i soldi delle PNRR che dovremmo gestire in qualche modo, tra la crisi internazionale che riguarda appunto coinvolge l'Ucraina, la Russia e poi gli Stati Uniti e i suoi alleati, una pandemia che non è ancora del tutto passata con la variante Omicron. C'era proprio bisogno, insomma, di queste lungaggini, di questi giochi politici che riguardano un avvenimento importante come l'elezione del Presidente della Repubblica per il nostro Paese? Insomma, forse la politica in questo momento non ne sta uscendo benissimo, o mi sbaglio? Dal mio punto di vista ne sta uscendo malissimo, sono assolutamente d'accordo. Qui è sempre il punto di prospettiva da cui si tende ad osservare la situazione. Se il punto di prospettiva è quello dell'interesse del Paese, l'interesse generale, è chiaro che il panorama che abbiamo di fronte, dal resto il Parlamento è un po' anche lo specchio del Paese, questo va detto, sono i nostri rappresentanti ed è costituito da molti deputati e senatori, in larga parte magari alla prima esperienza, alcuni molto improvvisati sul terreno politico, raccolti nel corso dell'ultima esperienza, dalle precedenti elezioni. Quindi il panorama non è molto confortante da questo punto di vista. Ci troviamo in un momento cruciale, come lo sono stati spesso i momenti cruciali per il nostro Paese nella storia recente, tuttavia questo lo è forse di più perché veniamo dal periodo della pandemia, veniamo da questa nuova apertura dell'Europa con la prima forma di condivisione del debito, l'Italia maggior beneficiario delle risorse europee, l'abbiamo detto molte volte, quindi si sperava almeno, si sperava che ci fosse un esercizio che riuscisse a guardare al di là degli interessi strettamente personali, politici personali o comunque politici generali, quindi dei partiti, degli schieramenti e si riuscisse a immaginare una traiettoria più lineare nell'interesse del Paese. A questo non stiamo assistendo in questo momento. Ecco, a proposito di interessi personali voglio riportarti questa interpretazione, diciamo così, che ha dato Marco Travaglio rispetto alla posizione di Draghi. diciamo che è un'interpretazione abbastanza forte perché dice Marco Travaglio che Draghi per il bene del Paese avrebbe dovuto assolutamente porre il veto rispetto ad una sua possibile elezione a Presidente della Repubblica, avrebbe dovuto semplicemente continuare a fare quello che sta facendo, cioè governare il Paese come Premier, mentre l'ambizione personale lo sta portando dove non dovrebbe e dove farebbe male al Paese e ai mercati. Tu che cosa ne pensi? La caratura internazionale, lo spessore internazionale, il prestigio internazionale, la preparazione tecnica e il percorso personale di Draghi fa sì che lui possa fare bene in qualsiasi ruolo sia, in quello del Presidente del Consiglio o anche in quello della Presidenza della Repubblica. Se a questa situazione particolare guardiamo per esempio con gli occhi internazionali, abbiamo l'Economist che ritiene che Draghi dovrebbe restare dov'è e farebbe meglio lì, mentre sarebbe una sciagura in qualche modo se andasse al Quirinale. Dall'altro lato abbiamo il Financial Times o alcuni organi di stampa americani che ritengono invece che una garanzia istituzionale di tale spessore al Quirinale, con Mario Draghi, farebbe sì che trovata la giusta soluzione per la Presidenza del Consiglio si garantirebbe comunque una tenuta dell'Italia agli occhi dei mercati internazionali, della finanza internazionale e anche della politica europea perché in questo momento stiamo giocando anche un ruolo centrale, insieme a Francia, Germania, nello scacchiere europeo dopo diversi anni in cui eravamo relegati in una posizione marginale. Per cui la mia personale opinione è che in ogni caso e la sua è una figura tale che sia da Palazzo Chigi o sia dal Quirinale, in ogni caso garantirebbe e coprirebbe con un ampio specchio di prestigio sia l'Italia sia le politiche dell'eventuale governo che dovrebbe in qualche modo continuare la sua opera sedendo pure al Quirinale. Ecco Marco, un'ultima previsione visto che da domani si passa alla maggioranza assoluta. Secondo te sarà il giorno decisivo e soprattutto entro questa settimana riusciremo ad avere finalmente il nome del nuovo Presidente della Repubblica? Sono un po' pessimista vedendo come stanno andando le cose, vedendo anche questa elezione di adesso è difficile veramente fare previsione perché poi c'è l'eterogenesi dei fini, magari è salta fuori qualche convergenza improvvisata che si consuma magari in sede notturna, però non credo, prima di sabato sicuramente no, ma più verosimilmente la prossima settimana. Ecco allora ti faccio veramente un'ultimissima domanda, un'ultimo spunto, ma in questo romanzo Quirinale, come molti insomma lo hanno definito, c'è qualcuno che rischia di più, che ha più da perdere? Ah sì sì, siamo sicuramente tutti noi. Ah ok, credevo mi citassi un nome e una parte politica. No no, mi ci metto in prima persona insieme a tanti altri italiani. Perfetto, è chiarissimo il tuo pensiero. Ringraziamo infinitamente Marco Girardo per essere stato qui con noi e benvenuto Presidente, naturalmente l'appuntamento è sempre qui sulle fonti, alla prossima. Grazie a te, grazie a voi.